ah ecco lo sapevo sono vivo sono ancora qui ho un blocco ciao a tutti ragazzi sono Cerofi e quest'oggi siamo qui con Chianetta Blade nelle Bad Wars ok ah vai davanti di là dove questi sono i verdi che sembrano malvagio là ci sono invece i blu che poteva attaccare subito però prima me lo metto un po di handstand va che se no laga stanno arrivando tieni tubo prendi un po di handstand vi faccio pvp non c'è bisogno sono stupidi vogliono da solo allora vado nella loro base non hanno messo niente guarda sono andando pvp no muoviti prendi non lo so niente non prendere niente attacchiamo adesso magari prendo un altro oro per fare la spada ok ma no non fare la spada va bene un pochino lo spreco l'inizio no hanno messo il legno ho un diamante tu quanti ne hai vero lo lascio qui pvp pvp ok è morto eh dai ci siamo vittoria pvp vieni aiutarmi a fare pvp eh no niente però il letto l'ho spaccato dai sto cercando di non andare nell'occhio e di salire a prendere gli smeraldi uh hanno spaccato un altro letto gli faccio un'imboscata li metto qui e quando arrivano faccio pvp ok li colgo alla sprovvista dove sono i verdi guarda verso la loro base la loro base ecco dove sono i verdi vabbè io faccio un'imboscata lo stesso beh se li tengo occupati io mi sto ancora seguendo secondo me lo so io sono qui che faccio un'imboscata guardate li vedi oh l'ho visto speriamo che lui non l'abbia visto me uno è nella base eh ora faccio un'imboscata non se l'aspettava imboscata 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 pvp c'ha tutto di diamante lui ma lo stavo tenendo comunque se lo stavo per fare eh certo no sono i rossi cioè devi guardare i mattoncini sono i magicissimi sono fortissimi i verdi aiutami a fare pvp ma sto cercando di andare a rompere quello no ma dopo guardami questi qua ci continuano attaccare se no questi sono devastanti sì ma dopo questi sono accanto a noi ormai sono qui intanto ti sfiego le cose come è giusto fare mi prendo pure una spada come è giusto fare sì sì e boh basta vabbè l'imboscata non c'ho voglia di farla quindi cerco vuoi fare in ponte da qui alla giù in fondo sì lo stavo facendo solo che mi hanno beccato eccolo cosa i verdi però sono sempre insieme aiuto vieni verso il centro vai vai avanti vai di più stai di ferma imboscati e va beh vai imboscati ok adesso li attiro verso di qua anche loro si imboscano guardali però io li faccio cadere lì sotto così 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 e che devo fare stare lì a guardare sì ma li stavo picchiando non ho spaccato il ponte ok puoi anche toglietti dall'imboscata adesso ho fatto smeraldi toglieli lascio qui oh cavolo eh sì ma questo è devastante ciao sharpness 10.000 tutto il resto thomas devi aiutarmi a sconfiggere thomas ci stanno facendo scoppiare tutto thomas non abbiamo più una protezione come hanno fatto da dove c'è qualcuno invisibile è fortissimo ma neanche tanto sinceramente muori salta pure aiuto buttati giù lascia perdere c'è il salterino che sopra casa nostra ok lolli 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 è fortissimo sono morto c'è mezzo qua è qui lì sopra allora tu guarda lì stai lì che hai più vita io prendo una spada almeno ok meno male prendo un po di legna almeno per fare una protezione schifosa visto che ti ha spaccato tutto qua ed è la lana ma è di sopra sì sopra al cubo che è sopra la nostra casa sì al cubo di rubik che è di sopra ah ma non ce l'ha il letto lui ah ma è lì stai andando dove sta andando in seguimento 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 doppio mi seguo per questo motivo ti ho buttato tutte le cose lì per terra oh cavolo stavo per il precipitare il seguimento io devo finire sì prendi le cose e rifai il ponte ma stai attenta io seguo 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 se noi non ammazziamo il blu il blu ma io seguo c'è anche il verde che è fortissimo tutto di diamante con sharpness mi sta portando nella sua trappola e vabbè io seguo ecco lo sapete sono vivo sono ancora qui ho un blocco ciao dove sei da casa sua casa di chi del grigio mi spacco il ponte dov'è non lo so non seguivo ho preso un blocco non so come attento mi sta andando ai blocchi praticamente questo però che non è una buona mossa la tua ora muori no aspetta che si sia lontani dice che i blocchi salgo però me serve un altro per riuscire a salire dai dammi un blocchetto sì 1 2 e 3 non te l'ha aspettato no l'ha intercesto ha sfruttato una spada dalla paura mi prende a pugni riguarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava guardano da come reagire quanta roba mamma mia non se l'aspettava che riuscisse da soli e che vuoi te ultrapax mi ha ucciso non è possibile ma noi abbiamo una forza salino adesso che il verde ancora lì 4 di diamante facciamo subito sharp nel ferro attacchiamo insieme però perché fortissimo voglio andare a spaccare quello stupido ma prima il verde lì che incombe aspettiamo ancora un po' ci lancerà una scarica di silversi c'è qualcosa che nessuno pensa il silversi quanto te sì vabbè io provo a vedere la situazione la situazione è che il blu lo stanno attaccando dobbiamo approfittarne questo stavo cercando di andare dai blu siccome lui è fortissimo ucciderà il blu e poi arriverò io che ucciderò lui però l'hanno ucciso invece cosa sta succedendo render per volante cavolo lui sono più forti di quello che pensavo e sono morto pure da solo c'è anche l'acqua da qualche parte ma vabbè stanno arrivando i blu si da noi uno soprattutto no l'ho mancato cavolo che cosa serviva questa cosa a cosa serviva ma è fortissimo via via fuga no non posso cadere adesso sarò per cadere io sto prendendo gli smeraldi si verificio oh oh un blu come faccio? picchialo pvp poi ti devi insegnare a fare pvp oh no siamo caduti entrambi sei smeraldi ho perso sei smeraldi devi picchiarlo di più sei smeraldi ho perso sta arrivando quello lì è armato io vabbè fiammina ah com'è fatto a beccarmi mentre cadevo sta arrivando è sul ponte è lì picchialo un secondo 2 secondi muoviti si sè ma lui c'è la spada di ferro si un secondo adesso il nascorino è morto è morto io vi ricordo il nostro innocente wow ero invincibile addirittura ho 3 esmeraldi Tutto qui dentro C'è un altro laggiù Vado Mi mancano due per fare Eh No Cosa pensi di fare eh Pensavi di potermi Configliare così No invece no Per niente Ya Ho altri diamanti Quanti diamanti abbiamo Quattro Vai facciamo Questo Protection Ancora Dopo Lui va su Io vado di qua Ciao Oh no Era una tecnica Cosa è successo Dopo Ci sta attaccando Arriva arriva E lì E lì E lì E lì Ma la skin di Jacob Sì Tutti hanno skin di Jacob Poi vi avevo detto Che quella del creeper di fuoco Era più bella Ma lui non mi vuole mai dare ascolto E ha preso la skin Che c'hanno tutti quanti Praticamente Sempre la stessa Inseguimento Sei morto? Sì Dov'è? Salute Sparagli qualcosa Non ho niente Da sparare Bravo Dimmi cosa fa Ti guardo Ok Io me ne vado E sale Sale E sale ancora Ah ah Ho tre diamanti Non posso farci niente Quindi aspetterò Che ne arrivi un altro 2 secondi Ok Attento Mi sa che ti Edicolo Corri 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 Tu picchialo Ah sono bloccato Picchialo Corri Io faccio Forge Presto Presto Forge No 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 ma è immagibile Pariii Ho detto morto Morto Ci mancava un colpo Non è possibile Allora aspetta Abbiamo avanti i diamanti Toh guarda qui Tantissima roba Facciamo il ponte Sta bruciando qualcosa Allora io recupero un po' di lana in giro E poi sto cercando di andare da loro Però qua è difficile Ma dai qua non ce n'è Uffa devo aspettare un po' E' il blu? Sto andando a toccare lì Spaccali il letto Se ce l'hanno Eh si Ci sono quattro Devo arrivare laggiù Ok Ma dove stanno? Ah lì Ma ce l'hai arrivato L'ho fatto Poi mi uccidono ogni volta E ci sono Su Sto arrivando Hanno soltanto legna Lo so Ce lo sto provando Non ci chiedo Sì sono una fitta lo so Guarda Uno E due Non ci voleva niente Ti ho provato 14 volte Adesso saranno Arrabbiatissimi Quindi sta attento Ma io c'ho una spada Nella cesta Guarda qui Dove è l'acqua? Dove è l'acqua? Ah qua Capito Eccomi Qua dove? Qui Dove sono io? No sono morta Vai in uno dei lati È lì A caso Ok Però guardaci dentro Perché Ma Fino Ah eccolo Vedo dei golem Che stanno menando tutti Attento Ok sono morto Rimangono soltanto i blu Oh cavolo i golem Wow Che volo Ok tocca a noi Contro i blu I blu sono cattivi C'ho tre cuori Ma ce la farò Ce la farò C'ha due di vita Vittoria schiacciante Ne manca uno L'ho visto al centro forse Ci sono i suoi stupidi golem Che stanno lì Oh no Uccidiamo il golem E poi Uccidiamo lui Muori Ok Perfetto È lì Lo vedo Però non ho più Lì dove? Oh guarda che bel tramonto Dai concludiamo Sono un po' Dicapata In giro io Anch'io Però poi sono bellissima Fare pvp L'avevo visto Mi ha scappato È lì È lì È lì È lì Accerchio Tenaya Tu vai dal lato E tu vai dall'altro Non riesco a prenderlo Aiuto Dove lo stai inseguendo Ok io ti la giungo Dall'altro lato Continua Inseguilo Inseguilo Che lo Intrappoliamo Tenaya Hai quello di prima Ecco Dai Eh però Dobbiamo farci dei golem E Zababble Ci ha ucciso No Bisogna fare una spada di ferro Ce l'avevo la spada di ferro E della la E dei tigre No vediamo Gli smeraldi Hai due smeraldi per me Dammi due smeraldi No ho sbagliato Volevo prendere Dammi due smeraldi Lo stesso Due smeraldi Due smeraldi Che ci fai? E l'arco potente La spada quanto costa? Quattro No dammeli Dai che faccio pvp Lo sconfiggo Dammi gli diamanti Uno che posso dare No due Ne serve un altro Dai Ciao Per favore Uno Ciao Uffa Ciao Che posso fare con te smeraldi? Niente L'armatura costa Sei La spada costa 4 Uffa Dove posso trovare Un altro smeraldo? Ce l'avevo nella cesta Sì Vai Con la spada di diamante Che fa 8 di danno Si ammazza subito Scommettiamo No Silverfish Guarda quanto ferro Dammi tutto il ferro che è Quanto ferro hai? Due Ah Va bene Silverfish Cinque silverfish Allora tieni un po' te Perché non si sa mai Ok? Adesso Andiamo Un attimo Deve trapparmi Vai Ma non si può E non cadere Con questo arco Devo stare attenta A non cadere Ti faccio pure un po' te senti Dove potrebbe stare Non lo so Eccolo Sempre al centro Dovevo fare una vena d'oro Ma fa niente Silverfish Sta scappando Dobbiamo intappolarlo Sì vai dall'altro lato E' zalbabe Però devo Io non posso Avvicinare Lo prendo Oh cavolo Cambiati Mi stai seguendo lui Adesso Mi stai seguendo lui Mi lascio delle trappole Ah mi sta facendo esplodere Spara io Ah Via In seguito In seguito Tu vai sempre dall'altro lato L'ho preso No Per niente Si era fermato Eh Dai Lo sto apricchiando Ma non gli faccio niente Vai giù Sì Sì Yeah Butta via sti cosi Sì Non posso buttarli via Eh no Yeah Ma ragazzi che vittoria Due su tre Quindi Circa Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao